Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli, la donna tragicamente uccisa nel garage del suo stabile, si trova al centro di una tempesta emotiva a causa di minacce di morte e messaggi minatori ricevuti sui social. La morte di Pierina Paganelli rimane avvolta nel mistero, senza alcuna persona iscritta al registro degli indagati, e le indagini sembrano perdersi. Manuela, che viveva accanto alla suocera insieme al marito Giuliano Saponi e all'infermiera Valeria Bartolucci. Sposata con Luis Da Silva, è coinvolta in una crisi matrimoniale con Giuliano e in una relazione extraconiugale con Da Silva. Durante un'intervista a quarto grado, sono emerse immagini esclusive di una missiva minatoria inviata a Manuela, tutte legate all'omicidio di Pierina e alla sua passata relazione con Da Silva. Nell'intervista, Manuela esprime la sua paura leggendo insulti sessisti e minacce che la dipingono come l'assassina o la mandante dell'omicidio di Pierina. Nonostante gli errori commessi, respinge queste accuse sottolineando di non essere una criminale. La sua preoccupazione è evidente nelle sue parole, poiché teme per la sua incolumità e quella della sua figlia. Decidendo di non lasciarla mai sola, la trama si complica ulteriormente con graffiti offensivi nei pressi dell'abitazione di Pierina Paganelli, specificamente rivolti a Manuela. Quest'ultima rivela che quel luogo era un punto di incontro tra lei e il vicino di casa, marito di Valeria Bartolucci. Manuela fa un appello all'assassino, chiedendo di uscire allo scoperto con un «sono stato io» e confessare la verità. E voi cosa ne pensate? Avete un'idea di chi possa essere stato a togliere la vita di Pierina? Fatecelo sapere nei commenti.